Musica Bentornati e buona giornata da M2One. Andiamo subito a vedere il tempo per la giornata di venerdì 2 settembre. Come possiamo vedere dall'immagine satellitare, il fronte temporalesco annunciato nei giorni scorsi ha raggiunto l'Italia scavando una blanda depressione nel Mediterraneo. L'anticiclune invece sta rinconquistando pian piano l'Europa occidentale con tempo soleggiato e mite. Mentre sull'Italia ci sarà ancora la possibilità di temporare i pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Nei prossimi giorni questa lacuna barica, portatrice di instabilità, andrà a commandosi riportando il per tempo su tutta la penisola. Ma andiamo a vedere il tempo sulle nostre due regioni. Il maltempo si allontana sui Balcani. Tempo soleggiato al mattino su Puglia e Basilicata. Qualche nube in più nel pomeriggio nelle zone interne del subappennino Dauno e delle morge. Anche sull'appennino Lucano. Temperature stazionare sia nelle massime che nelle minime. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi e ammossi con rinforzi solamente sul Salento. Ma eccoci con il nostro consiglio di appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo la nostra telespettatrice Maria Idria Semerario che ci manda il bel paesaggio dalle campagne di Martina Franca al tramonto. Se volete inviarci la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.